e diamo allora l'avvio all'ultima delle nostre relazioni, dei nostri incontri di questo pomeriggio che è quello con la professoressa Carla Rossi dell'Università di Zurigo dove è professora di filologia romanza e che ci parlerà di analisi paleografica, tonicologica e filologica del presunto atto di morte del Caravaggio va senz'altro dato atto alla Rossi da questa peculiarità nel abbinare ricerca paleografica, tonicologica a ricerca storico-artistica e del resto ella dirige il Research Center for European Philological Tradition in quella di Zurigo ed è anche però membro della Società Internazionale di Storia della Miniatura dando cioè prova di quella lodevole e utilissima trasversalità che molto predichiamo e non sempre poi i specialismi, gli ipespecialismi consentono di applicare quindi davvero grazie per questo interessantissimo immagino e spero e auspico contributo l'ultimo della nostra giornata. Prego. Grazie mille per l'ospitalità innanzitutto, allora volevo dire che non è mia intenzione oggi stabilire se Caravaggio sia morto o meno a Porto Ercole ma solo analizzare un foglietto il 19 dicembre del 2001 dal libro dei capitoli della collegiata di Porto Ercole ossia da un registro di statuti, decreti e conti che va e l'arco temporale è da tenere a mente dal 1653 al 1861 è emerso questo foglietto sciolto che vedete qui oggi conservato presso l'archivio storico della diocesi di Pitigliano, Sovano, Orbetello e il ritrovamento è avvenuto ad opera dell'architetto Giuseppe Lafauci, appassionato storico locale di questo foglio è stato detto che si tratterebbe di uno dei documenti più ricercati della storia dell'arte e dunque mi è parso che questo fosse il contesto migliore per proporne un'analisi che riguarderà la carta, gli inchiostri, più di uno, un'analisi diplomatica e paleografica anche filologico testuale, gli inchiostri ho detto perché in alto si vede traccia, c'è traccia di un secondo inchiostro diverso rispetto al primo che vediamo qui procederò esattamente secondo la stessa prassi che seguo quando case d'asta, gallerie antiquarie mi chiedono una consulenza in merito a documenti manoscritti medievali e rinascimentali. Il foglietto così mostrato come lo vedete qui ha la filigrana digitale della diocesi che ovviamente nell'originale non c'è ma di filigrane parleremo molto rapidamente. non si sa bene se questo sia un recto o un verso, allora girando il foglio si vede un'ulteriore scritta che è questa, a Lioa di 31 luglio morse al Fiergaspar Montero. Allora vediamo meglio che cosa si legge in questo foglio sciolto. All'i 18 luglio 1609 nell'ospitale di Santa Maria Ausiliatrice morse Michel Angelo Merisi da Caravaggio, dipintore, per malattia. Il foglio è stato rindenuto tra la carta 14 verso 15 recto del libro dei capitoli della collegiata posizionato nella parte bassa del registro, ve lo faccio vedere, questa è la foto scattata proprio al momento del ritrovamento dalla Fauci, si capisce dove era ubicato proprio perché in alto vengono fuori così delle tracce dell'inchiostro del foglio sottostante che è ad un'analisi poi più attenta che abbiamo fatto anche con la direttrice dell'archivio proprio questo foglio 14 verso. Quindi procediamo con un'analisi intanto del supporto cartaceo. Come sapete la carta è l'elemento che ha incidenza maggiore nello studio del manoscritto rispetto alla pergamena, perché? Perché permette di ricavare qualche dato in più in ambiti importanti come datazione, localizzazione, quindi uno strumento utilissimo per la datazione delle carte, dei documenti medievali, come tutti gli storici dell'arte sanno. è almeno sino al Seicento rappresentato dalle filigrane, ogni cartiera aveva la propria filigrana, esistono tantissimi repertori, anche online adesso, brichet, piccar, oggi digitalizzati di tutte le filigrane europee e ovviamente le più famose in Italia sono quelle di Fabriano, ma in Toscana, specie a Firenze, le leggerissime variazioni nei disegni di queste filigrane permettono una datazione approssimativa al 90% dell'anno di produzione dei fogli, che ovviamente può essere molto differente rispetto poi a quello dell'utilizzo della carta. Quindi non dico assolutamente nulla di nuovo, la cosa però che stupisce abbastanza è che della filigrana non c'è nessunissima traccia in questo foglio. Questo non significa che originariamente non vi fosse qualche filigrana possibile, come vedete qui da questo disegno molto rapido che appare a schermo, il foglietto poteva trovarsi in una posizione particolare in cui la filigrana non compare. La cosa interessante però è che nei fogli invece del libro in cui è stato rinvenuto la filigrana, cioè è una filigrana ovviamente tipicamente italiana con picche inscritte in un ovale, iniziale M sottostante all'ovale, ma allora su che cosa ci dobbiamo basare per la datazione della carta? Se non abbiamo l'elemento principale che ci consente appunto di muoverci in un ambito temporale approssimativo. Ci basiamo su vergelle e filoni, di che cosa si tratta? Allora ve lo faccio vedere rapidamente, qui prendendo proprio ad esempio poi le vergelle e i filoni che compaiono nelle carte utilizzate per il libro dei capitoli. Si tratta delle impronte dei crini di cavallo lasciati sulla pasta morbida della carta al momento della creazione proprio in cartiera di questa carta. E quindi qui vediamo che si può calcolare la distanza di vergelle e filoni, ho sottolineato il più possibile quale può essere la distanza nel libro, nella carta utilizzata nel libro dei capitoli. La faccio breve ovviamente, prendete per buono tutto quello che vi dico. È la stessa che possiamo ritrovare su questo foglietto. Quindi questo ci permette una datazione approssimativa della carta. Andiamo avanti per datare, per cercare di saperne qualcosa di più di questa carta. Ci basiamo, così come facciamo di solito quando analizziamo anche le pergamene, sui fori di cucitura, che qui compaiono in maniera molto evidente, lasciando intendere cosa, lo vedete, che praticamente il retto del foglio doveva essere quello in cui è stata trascritta, è stata riportata la morte di Alfier Gaspar Montero, perché, vedete, sono qui sulla sinistra i fori di cucitura. E quindi, qui vedete, se dovessimo posizionare questo foglio all'interno del libro in cui è stato trovato, avremmo alcuni dati interessanti. Intanto notiamo che c'è una rifilatura del foglio con tagliacarte. Quindi questo può spiegare perché non troviamo una filigrana. Ma soprattutto, andando poi a fare un'analisi proprio dei fori di cucitura, sono gli stessi che riguardano le varie carte del libro dei capitoli. Quindi questo che cosa ci porta a dire? Cioè, abbiamo due rifilature importanti con tagliacarte, quindi c'è stata una precisa volontà di tagliar via qualcosa qui, mentre il bordo originale non rifilato è quello di sotto, è questo che riporta i fori di cucitura. Allora, poi altro elemento per noi importante è che troviamo traccia in questo foglio sul lato in cui è riportata la morte del Caravaggio di tracce d'inchiostro, come vedete. Poi metteremo in evidenza anche il fatto che quest'inchiostro particolare ha lasciato dei segni evidenti nella carta. Allora, si tratta di aste discendenti o ascendenti? Questo non lo sappiamo, a seconda di come si giri il foglio potrebbe trattarsi qui, ad esempio, di una P, ma se lo giriamo diversamente anche di una B. Insomma, è abbastanza complesso qui capire che cosa poteva essere scritto in questo foglio, però qualcosa appare subito evidente, lo vedete anche a occhio nudo qui, gli inchiostri del libro che troviamo nel libro, nel registro dei morti di Porto Ercole, perché esiste un registro ufficiale in cui, come sapete benissimo, la morte di Caravaggio non è riportata né per il 1609 né per il 1610, è riportata invece quella di Montero. Comunque, limitandoci per ora all'analisi dell'inchiostro, gli inchiostri del 600 lasciano tracce evidenti di corrosione della carta, cosa che invece non abbiamo assolutamente nel foglio. Qui vedete altre tracce, inchiostri che hanno comunque corroso la carta, cosa che è avvenuta appunto nel pezzettino superiore, nell'angolo superiore, e qui vedete, togliendo anche una parte, come è accaduto qui, comunque si vede che l'inchiostro del 600 lascia tracce evidenti, perché corrode le fibre di cellulosa della carta, cosa che appunto invece non è avvenuta minimamente per quanto riguarda il foglietto che stiamo analizzando. Questo è il Liber Mortuorum per gli anni che vanno dal 1590 al 1669 della parrocchia di Sant'Erasmo, e come vedete si tratta di una carta fortemente corrosa. Questo è il paragone. Ad esempio con che cosa ho scelto, e non a caso, questa registrazione della morte a 2 di maggio del signor Michele, che ovviamente non è il nostro, morto nell'ospitale, fu sepolto in Santo Sebastiano. Allora, vedete, limitiamoci ancora all'analisi dell'inchiostro, si tratta qui di un inchiostro particolare. Ho voluto far notare anche come appunto per il 1609 appare un signor Michele che qualcuno nel tempo ha notato, tanto da sottolinearlo, da indicarlo, con un inchiostro blu andando, intervenendo praticamente nel libro dei morti, facendo una cosa che qualsiasi filologo assolutamente inorridisce quando vede all'interno di un manoscritto, cioè comunque andando a sottolineare, con un inchiostro blu in questo caso. Allora, notate una cosa, questo inchiostro blu non corrode la carta, così come non la corrosa l'inchiostro sopra. Allora, una piccola cosa che notiamo sin da ora è che nel presunto atto di morte del Caravaggio manca qualcosa di fondamentale quando si registra la morte di qualcuno. In qualsiasi registro dei morti, purtroppo in vita mia ne ho consultati da tanti, dall'alto al basso medioevo, dal rinascimento al 600, si indica sempre il luogo della sepoltura del morto. È importantissimo ricordare dove viene sepolto, qui manca, in questo atto di morte del Caravaggio, manca l'indicazione del luogo di sepoltura. Ora, come analizziamo solitamente gli inchiostri? Con spettrofotometria infrarossa in riflettanza totale attenuata. E questo ci dice moltissimo sulla composizione degli inchiostri. Allora, una cosa importante è che il registro dei morti mette in evidenza tracce di solfato di ferro e rame. L'inchiostro presente nel registro dei morti presenta queste tracce di solfato di ferro e rame, cosa che invece non vediamo. Qui anche a occhio nudo, senza utilizzare nessuno strumento, la differenza è evidente. Ancora una volta ve lo faccio vedere per farvi capire di che cosa sto parlando. E quindi nessun segno di corrosione della carta ci porta a quale conclusione che siamo in presenza di inchiostro di china e non inchiostro a base di ferro gallico, come avveniva fino al 6-700. Tanto per farvi un paragone rapido, qui vedete, passo in rassegna, vari documenti dell'Ottocento che non corrodono minimamente la carta. D'altronde è il motivo principale per cui poi è stato adottato l'inchiostro di china, soprattutto nella stampa. Ancora, questo invece è un documento del Tardo 600 dove la corrosione è evidente. Passiamo molto rapidamente, non voglio prendere troppo tempo, ad un'analisi diplomatica e paleografica di questo documento, chiamiamolo così. Allora, sappiamo una cosa importante, questa che vedete non è la mano del piovano che teneva il registro dei morti che vi ho mostrato prima. Si chiamava Jacopo De Ventura e nel 1609, a quanto pare, De Ventura non si trovava a Porto Ercole, ma a Roma. E allora alcuni hanno ipotizzato che proprio questo sia il motivo per il quale la morte di Caravaggio non sia stata registrata ufficialmente nel registro dei morti. Però questa non è neppure la mano del suo sostituto, padre Guglielmo Guglielmi. Tra l'altro, se fosse stata la mano appunto di Guglielmi, avremmo potuto giustificare una singolare redazione, perché come vedete la grafia è davvero molto singolare per essere una grafia del Seicento, è assolutamente molto tremolante. C'è inoltre un'altra anomalia in questa registrazione compiuta sul foglio sciolto, ossia proprio l'utilizzo di entrambi i lati della carta e questa linea tirata qui, che ha un senso nel registro dei morti, perché allora si tira una linea e si annota la morte di un'altra persona, mentre qui si tira la linea e sotto non appare assolutamente niente, bisogna girare il foglio per trovare invece l'annotazione della morte di Montero, che anch'essa è in posizione anomala, perché è perfettamente giustificata, abbastanza strano. Comunque, una cosa in dubbia è che si tratti della stessa mano qui che ha annotato entrambe le morti. La scrittura di entrambe le annotazioni, dunque, è particolarmente incerta, che può essere segno o di scarsa alfabetizzazione. Non possiamo escluderlo, ovviamente, perché vedete che praticamente è come se ogni singola lettera o numero fosse ragionato nel momento in cui viene scritto. oppure anche quando analizziamo appunto carte e soprattutto documenti antichi è anche indizio di camuffamento del proprio usus scribendi. E soprattutto se lo strumento scrittorio che si utilizza, qui probabilmente un pennino, è diverso da quello che si è soliti utilizzare. Praticamente, se utilizziamo una penna, il passaggio a uno strumento scrittorio come un pennino e l'utilizzo di inchiostro fa sì che la nostra grafia non sia così fluida e il nostro ductus non sia regolare come lo è di solito quando utilizziamo appunto la penna. E quindi lascia enormi dubbi l'appartenenza di questa scrittura agli inizi del Seicento. È anomalo il fatto che le lettere siano, qui lo vedete, senza nessunissimo segno di legature. È troppo recente il disegno delle lettere con occhiello, A e O, della V, anomalo per l'epoca poi il segno della R, il modo in cui è stata tracciata la R. Poi, dal punto di vista, qui vedete un esempio di grafia secentesca con appunto tutte le legature, cosa che manca completamente invece in questo foglietto. Dal punto di vista linguistico e filologico, che cosa possiamo dire? Al di là dell'anno sbagliato, perché questo è evidente. C'è scritto 1609, sappiamo che il Caravaggio morì nel 10. Qui continuo a far vedere, a paragonare praticamente la grafia di sopra con una grafia invece ottocentesca e vedete che il ductus, ad esempio, della M più simile e lo è soprattutto quello della R. Anzi, è davvero molto molto simile, completamente differente da una R secentesca di cui abbiamo traccia proprio vicinissima qui nel registro dei morti. Questa è la grafia di De Ventura. Particolare è anche quella, la notazione della data. Per esempio, nel registro dei morti abbiamo sempre A, il giorno, qui 21 di gennaio, mai A, lì, eccetera. Però va bene. Per quanto riguarda la datatio, si è tentato di giustificare l'errore di datazione con un presunto uso senese. Quindi appunto, vi dico, dal punto di vista filologico, come giustifichiamo, come possiamo giustificare questa strana datazione, un presunto uso senese. Però, chi ha affermato questa, così, chi ha avanzato questa ipotesi per giustificare l'errore, evidentemente non ha dimestichezza con i documenti d'archivio toscani. Perché? Faccio un rapido riassunto, so che siete al corrente della cosa. Dal Medioevo sino al 4 ottobre del 1582 si faceva iniziare l'anno o il primo gennaio secondo il cosiddetto stile della circoncisione o il primo di marzo secondo lo stile veneto o il 25 di marzo stile dell'incarnazione stile fiorentino stile senese praticamente stile di tutta la Toscana tranne che anche a Pisa ma a Pisa l'anno in realtà era avanti di di un anno proprio comunque iniziava il 25 di marzo. Abbiamo anche lo stile bizantino con un inizio di anno al primo settembre ed è quello che troviamo in tutti i documenti del sud Italia oppure ancora il 25 dicembre stile della natività il giorno di Pasqua secondo lo stile francese ma noi appunto abbiamo una testimonianza che ci dice che il Merisi sarebbe morto il 18 di luglio del 10 allora guardate ho fatto così giusto per avere subito sott'occhio perché si tratta comunque di un errore quell'indicazione del 1609 immaginiamo questo è l'anno gregoriano quindi abbiamo il 1610 un anno gregoriano che inizia il primo di gennaio seppur interrotto l'audio professoressa professore mi viene ecco professoressa è tornata si era bloccata momentaneamente purtroppo è la rete dove siete rimasti seppur sul 1610 ah perfetto niente praticamente che cosa accade qui non ci interessa quando inizia l'anno il fatto è che il 18 di luglio è sempre uguale sia se contiamo l'anno ab incarnazione o se contiamo l'anno secondo l'inizio gregoriano quindi è proprio il fatto che siamo a luglio e non nei mesi che separano gennaio da marzo seguite e quindi poi rispetto alle tipiche annotazioni nei libri di morte che cosa altro ci colpisce dal punto di vista proprio filologico qui compare il cognome si è parlato prima di Federico Borromeo che scriveva del Caravaggio chiamandolo Michelangelo Caravaggio non aveva riportato non non si parlava del cognome non non veniva presentato come Michelangelo Merisi da Caravaggio dipintore tutte queste indicazioni sono molto particolari linguisticamente è anomala per esempio qui in questo contesto in cui troviamo morse che è un verbo di uso trecentesco cioè dal trecento in avanti di area toscana e proprio della lingua curiale anche lo nota lo stesso Dante nel De vulgaria eloquenzia ed è un verbo utilizzato nel registro dei morti però il nome è Angelo e non Agnolo ad esempio come sarebbe normale verrebbe normale a chiunque si trovasse in Toscana in quel momento e quindi diciamo che desta qualche sospetto perlomeno questa lunga indicazione così del nome del pittore e inoltre ospedale c'è l'indicazione di Santa Maria all'ospedale di Santa Maria ausiliatrice di cui non abbiamo nessunissima traccia nei documenti secenteschi non esistono riferimenti espliciti a luoghi di culto con questa intitolazione dopo il 7 ottobre del 1571 ma abbiamo qualche picco qualche riferimento alla Santa Maria perché ho detto 1571 perché vabbè in questo contesto mi sembra inutile ricordarlo chi è Santa Maria ausiliatrice comunque ovviamente è la Madonna che ha aiutato durante la battaglia di Lepanto per questo ho fatto riferimento al 1571 non abbiamo appunto documenti che ne parlino c'è qualche accenno invece in documenti ottocenteschi tra l'altro una cosa che mi preme notare è come ausiliatrice qui sia una riscrittura in realtà sopra Assunta e questo lo si vede chiaramente l'ospedale di Santa Maria Assunta esisteva sì dal 300 però ad Orbetello aveva un centinaio di letti si può ricostruire tutta la storia di questo ospedale non è però l'ospedale che ci interessa probabilmente questo ve l'ho già fatto notare questa particolare indicazione della morte appunto del signor Michele guardate si somigliano molto queste due annotazioni minella ospedale senza il raddoppiamento però qui manca l'indicazione della sepoltura allora per farla molto breve e arrivare ad una conclusione rapida di questo di quanto vi ho detto ovviamente poi negli atti del convegno sarà molto più precisa sebbene la carta sia secentesca il foglietto presenta diverse anomalie l'inchiostro non è secentesco perché a base di ferro gallico non è a base di ferro gallico ma di china lo strumento scrittorio probabilmente un pennino genera un ductus incerto dal punto di vista paleografico la scrittura è ascrivibile ad un'età compresa tra la fine dell'ottocento e la fine del novecento anche la datatio come abbiamo visto è incongrua vi sono incongruenze linguistiche inoltre la rifilatura è un fortissimo indizio di falsificazione ad esempio chi si occupa di manoscritti sa che questo era il modus operandi del maggior falsario con cui siamo confrontati come codicologi che era lo spanish forger si tratta di un falso però di una contraffazione di un semplice appunto personale di qualcuno che invece ha utilizzato una carta strappando la via dal libro all'interno del quale poi è stata trovata un appunto personale ovviamente quello che mi sento di dire è che non si tratta di un appunto preso nel 1609 un falso nella realtà giuridica diciamo che il falso non è mai fine a se stesso quindi all'interno dell'ampia categoria dei reati di falso ve ne sono alcuni condolo destinati a trarre in inganno o un numero ristretto di soggetti o un soggetto solo e insomma ma è una cosa che dobbiamo domandarci di fronte a questo foglietto se fosse se fosse un falso qui protesto e quindi io non do nessunissima risposta qui faccio a voi la domanda ho semplicemente proposto così molto rapidamente un'analisi di questo foglio e quindi mi rimetto poi al vostro giudizio grazie grazie alla professoressa Rossi che ha dato prova di una continuità sembra quasi paradossale a dirsi con la relazione precedente all'insegna dell'analisi raffinatissima del dettaglio del particolare e dando una relazione assolutamente incontrovertibile molto rigorosa e qui la ringraziamo mi piace precisare a ulteriore conferma che la tradizione del titolo di Auxilion Christianorum alla Vergine conferito da Pio V a seguito della presunta presenza miracolosa nel giorno della battaglia del rosario e quindi della battaglia in realtà però ha la prima codificazione scritta nell'edizione delle terminie lauretane del 1576 soprattutto viene approvata come definitiva solo nel 1601 quindi un ulteriore elemento a dimostrazione di come veramente molti elementi non torino e quindi a un certo punto siamo grati alla collega Rossi di questa veramente precisa acritica rigorosa definizione bisogna tenersi l'amica perché è pericolosissimo avere nemici di questa potenza no scherzo ovviamente buonariamente e la ringraziamo davvero della sua precisissima relazione bene grazie siamo grazie a tutti i relatori per essere stati rigorosi anche nel mantenimento dei tempi previsti sono le 1726 quindi senz'altro chiedo relatori in prima ma naturalmente a tutti coloro che lo desiderano di partecipare alla discussione che ora avrà sentito e che mi piace quindi dichiarare aperta grazie